L'italiano bilotta, il credo di Nicola Stoiano, evolvenza, reincarnazione, evoluzione della coscienza. Nicola Stoiano è un sindacalista che si muove nel mondo della scuola, dove non può fare a meno di divulgare il suo credo, che è la filosofia della reincarnazione. Nicola non perde occasione per trasmettere questi valori nel sindacato, nelle carceri, nelle scuole medie per adulti, in una televisione privata e in molti altri luoghi ancora. Sono tutte occasioni che gli danno la possibilità di spiegare perché la legge d'evoluzione, che è perfetta perché è divina ed è divina perché è perfetta, ha bisogno per attuarsi della molteplicità delle vite.